Buonasera e benvenuti alla giornata, potremmo dire l'Uzzattiana, perché è una giornata come tante altre sotto certi aspetti, perché si presenta un libro della collana, l'Uzzattiana è l'ultimo di una serie lunga e ogni volta si fa una conferenza si illustra quest'opera. Ma oggi è una giornata molto particolare, perché coincide l'uscita di questo volume, che vedete anche qui, questo volume Luigi Luzzatti, Presidente del Consiglio, coincide dicevo con un evento particolarmente rilevante, cioè l'apertura di una piccola esposizione di una sala di Palazzo Loredà della raccolta dei cimeli di parte degli arredi che l'Istituto è ereditato dagli eredi di Luigi Luzzatti. Sostanzialmente negli anni 30, anzi Luigi Luzzatti muore nel 27, gli eredi decidono di affidare questo grande patrimonio di documenti, di libri di oggetti a qualche istituzione nobile che ne facesse buon uso e viene scelto di provare a contattare l'Istituto Veneto. Uno dei figli scrive al segretario dell'Istituto Veneto, che era Giovanni Bordiga, e la proposta viene accettata nel 1930. E quindi la donazione avviene con un atto del 1932. Vedete quanto distante è questa epoca da quella attuale, però in mezzo c'è stata la guerra, gran parte di questo materiale è rimasto chiuso nelle casse di qualche scantinato e soltanto nel 1969 tutto il patrimonio documentario di Luigi Luzzatti è stato riunito ed è stato cominciato a esaminarlo. Dopo un primo lavoro di riordino sono stati conservati 250 faldoni, 50 stampati, 50 di corrispondenti e centri relativi alla sezione tematica e nel 1982 si è cominciato a lavorare. Gli studiosi che hanno cominciato a lavorare su questa enorme massa di documenti sono Luigi Bellini, il nostro socio che è qui presente, e l'altro socio Paolo Pecorari che per ragioni di salute non è potuto essere presente questa sera. Gli studi di queste carte sono stati aiutati dalla collaborazione di Maria Gottardi e Maria Carla Monico che hanno cominciato a compilare pazientemente le schede cartacee con tutti quanti i riferimenti e così via. Nel 2001 con il contributo finanziario del Ministero dei Beni Culturali è arrivata un'ultima tappa della descrizione informatizzata dell'archivio che è stato messo nell'archivio del Novecento curato dal Consorzio Bayer e lì finisce questa parte. Rimaneva la sistemazione della parte forse più interessante per il grande pubblico degli oggetti e degli arredi che appartenevano a Luigi Luzzatti. Luigi Luzzatti è una figura che merita sicuramente un'attenzione particolare, non soltanto perché ha donato, i diritti hanno donato questo patrimonio all'Istituto, ma che è stata una figura interessantissima della storia dell'Italia a cavallo tra la fine dell'Ottocento e il primo Novecento. Non sta a me adesso ad entrare nei dettagli, ma è stato il fondatore del sistema delle banche popolari che ha avuto immediatamente una grandissima diffusione, che è stato uno dei pilastri importanti dell'economia del tempo, è stata una cosa molto rilevante, ma è stato molto attivo nella parte diplomatica, è stato molto attivo nella parte che riguardava l'assistenza per esempio non soltanto ai profughi e ai dispersi della prima guerra, cioè famiglie che avevano perduto la casa durante la prima guerra mondiale qui nel Veneto, ma per esempio tutto quanto lo sviluppo dell'edilizia popolare, cioè una quantità di interventi veramente grandiosi che facevano capo alla sua idea di liberale, che per essere liberi veramente bisogna essere liberi anche dalla fame e dalla sofferenza. Quindi questa idea di aiutare a risorgere da queste situazioni molto precarie per partecipare alla vita comune del Paese. Io non mi diungo in questo, ma sarebbe molto bello poter parlare di questo. Dico soltanto che adesso la San Luzzatti è stata riordinata, messa a posto e resa adesso un aspetto molto gradevole per la visita di chi la voglia vedere, dall'aiuto e dal lavoro dell'architetto Foglio Caputo, del studio CEC che ha curato l'allestimento e dal professore Mezzaroba che ha fatto il catalogo delle medaglie. Però bisogna riconoscere la Banca Popolare di Cienze, qui c'è Cavaliere Zonin, con cui parlai insieme con il dottor Franchini nel suo studio due anni fa, che ha dato generosamente un contributo alla Banca Popolare di Cienze, credo consapevolmente perché questa figura di Luigi Luzzatti doveva essere ricordata e ricordata anche in particolare nel Veneto dove molte banche popolari, quelle di Cienze in particolare adesso, ma anche altre sono sorte e hanno operato nel passato. Quindi io chiuderei qui questa prima introduzione dicendo che l'interesse di questa giornata è anche testimoniato dal fatto che hanno mandato l'adesione, e ci hanno mandato l'adesione a questa celebrazione, l'onorevole Giancarlo Galan, Presidente della VII Commissione di Cultura, Scienze e Istruzioni della Camera dei Deputati, l'onorevole Flavio Nardelli, segretario della VII Commissione di Cultura, Scienze e Istruzioni della Camera dei Deputati, e l'onorevole Flavio Zanonato che ci ha dato per ultimo, non per primo, perché devo leggere il messaggio che gentilmente ci ha mandato. Dice l'onorevole Zanonato, purtroppo non posso essere presente la vostra iniziativa per concomitanti impegni istituzionali. Vi ringrazio per il prezioso lavoro che avete svolto negli anni e che trovo un importante compimento nel centenario della nomina a Presidente del Consiglio dei Ministri di Luigi Luzzati. Di Luigi Luzzati sottolineo con voi la capacità di rendere effettiva la democrazia andando a incidere nel miglioramento concreto delle condizioni materiali delle persone. Luzzati fu infatti artifici e di politiche che hanno consentito a masse popolari sempre più vaste di accedere a condizioni migliori e di ricevere un'istruzione adeguata. Penso in particolare al suo ruolo nella diffusione delle banche popolari in Italia, alla legge varato durante il suo governo che ha reso obbligatoria la frequenza scolastica fino a 12 anni, seppe quindi far correre il Paese su due assetti fondamentali per lo sviluppo e la modernizzazione, l'allargamento della possibilità di accedere risorse e la crescita delle potenzialità culturali. L'accademico sapeva con grande energia essere uomo di governo, in grado di affrontare con forte spirito innovatore le complessità di un'Italia che, trovata la forma, aveva bisogno di sostanza. E mi piace sottolineare oggi che lavoriamo nel progetto della costruzione degli Stati Uniti d'Europa anche l'uomo di Stato che, grazie alla sua fervida curiosità intellettuale, seppe costruire contatti, reazioni e idee con una parte della cultura europea. In questo senso fu sempre il precursore, uomo in grado di tracciare solchi sui quali abbiamo camminato e tuttora camminiamo. Studiare nell'opera è quindi uno stimolo per tutti noi e un'azione che vada a migliorare con misure puntuali e misurabili la vita reale delle persone. Ancora grazie per quanto fate, tenere vive, studiare e ripensare le migliori idee che hanno costruito l'Italia è un'opera essenziale per dare l'info al futuro di tutti noi. Cordiale saluto di Flavio Zanato, Ministro del Grupo Economico. Ecco, con questo chiudo questa parte di saluti. Do il benvenuto all'ingegnere Farrinco Potremoli, che è il nipote di Luigi Luzzati, che ha avuto la bontà di venire a partecipare a questa serata. Cito il comitato scientifico delle Chievo Luzzati, di cui ci sono i soci Pierluigi Vallini e Paolo Pecorari, che ho già citato, e il cancelliero dottor Sandro Franchini, che insieme a loro ha proceduto a questa opera veramente all'inizio mastodontica, che pian piano però è riuscita a vedere la luce alla fine. e ringrazio ancora la dottoressa Carla Monico, di cui ho già detto, e il dottor Carlo Urbani, che è responsabile del servizio di studio degli archivi, che ha molto lavorato in questi ultimi tempi per questa rush finale, per arrivare a presentare adeguatamente la sala Luzzati. Detto ciò, darei la parola al Presidente della Banca Popolare di Vicenza, Cavalera Gianni Zonini, scusi, per se vuole dire qualche cosa. Grazie Presidente, gentili signore e signori, sono particolarmente legato al Presidente dell'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti, Professor Danieli, per aver voluto far coincidere l'inaugurazione della sala dell'Istituto dedicata a Luigi Luzzati, con la presentazione di un importante volume che ripercorre il ruolo che Luzzati svolse nell'anno in cui, fra la primavera del 1911 e quella del 1912, ricoprì l'incarico di Presidente del Consiglio. La concomitanza dei due eventi pone in luce, infatti, le complesse sfaccettature della personalità e dell'impegno civile di questa eminente figura di statista e di studioso, che ancora oggi, e se potrebbe dire tanto più oggi, può essere aditato ad esempio di dedizione alle istituzioni, di disponibilità di servizio al Paese, di generosa capacità di animare iniziative di promozione economica e sociale. Tra queste iniziative ci fu quella del movimento di idee che all'indomani dell'Unità d'Italia avviò la nascita del credito popolare e cooperativo e dette vita al sistema delle banche popolari italiane. Già questa sua paternità ideale e morale del sistema delle popolari, di cui la Banca Popolare di Vicenza ancora oggi popolare e cooperativa è espressione, motiva l'intervento assicurato dal nostro Istituto per consentire di riunire e riordinare in una sala di palazzo Loredan il ricco lassito di carte, libri e ricordi personali dello statista, pervenuto dai suoi eredi all'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Ma c'è molto di più e di più profondo che lega alla nostra banca la figura di Luigi Luzzatti. E non è solo per il fatto che Luzzatti rivestì il ruolo di Presidente Onorario della Banca Popolare di Vicenza per moltissimi anni, ma soprattutto perché la Popolare di Vicenza deve proprio a lui, in modo diretto e speciale, la sua nascita come prima banca popolare del Veneto e il suo primo avvio di sviluppo. L'occasione moderna è stata motivo anche per la nostra banca di rileggere e ricostruire questo rapporto e sono particolarmente grato al Presidente Danieri per averci offerto questa opportunità. Non è casuale che nell'ordine di fondazioni delle banche popolari solte nel Veneto, all'indomani della sua nessione all'Italia, avvenuta nel 1866, quella di Vicenza figuri per prima. L'impulso iniziale venne infatti non tanto dall'impellente bisogno di credito della piccola e media borghesia dell'epoca, ma soprattutto da un gruppo di amici diluzzati che già negli ultimi anni della dominazione austriaca in Veneto e proprio da Vicenza avevano iniziato a propugnare l'idea lossatiana dell'associazionismo mutualistico prima e del credito popolare poi. Al vertice di questo gruppo di amici diluzzati c'era fedele Lampertico, Vicentino, zio acquisito di Antonio Fogazzaro e più tardi segnatori del Regno d'Italia. Quella fra Lampertico e Luzzati fu un'amicizia lunga e feconda, come testimonia a un carteggio fitissimo solo in parte ancora oggi esplorato. E fu a Lampertico che Luzzati ispirò prima la costituzione della Società Generale di Mutuo Soccorso, ancora oggi attiva a Vicenza, e poi la nascita della Banca Popolare di Vicenza. Due anni prima della fondazione del nostro istituto, nel dicembre del 1864, Luzzati scriveva testualmente a Lampertico «A Vicenza fonderete una banca popolare? Non deve essere difficile farla fiorire sul tallo della Società del Mutuo Soccorso. Intanto, non potresti iniziare il prestito d'onore in seno alla Società del Mutuo Soccorso?» Come si intuisce da queste parole, l'interesse di Luigi Luzzati perché la prima banca popolare del Veneto nascesse proprio a Vicenza non era un interesse solo accademico. Luzzati sostenne da vicino il gruppo di soci vicentini impegnati a dar vita alla nostra banca e addirittura avvenne più volte di persone a Vicenza nei mesi cruciali della predisposizione delle pratiche necessarie all'autorizzazione del suo statuto. Il 19 agosto 1866, a meno da un mese dell'approvazione dello statuto, Luzzati ne parlò perfino durante una sua lezione magistrale al Teatro Olimpico e i giornali locali dell'epoca commentarono la scelta del tema sottolineando che non poteva trattarsi argomento di maggiore opportunità per Vicenza. Il suo prestito in sui vicentini perché la popolare di Vicenza iniziava ad operare fu oggetto anche di un curioso equivoco con l'ampertico. Ignorando che finalmente l'approvazione dello statuto della banca era venuta il 12 settembre, le poste anche allora evidentemente non erano puntualissime, Luzzati scrive all'ampertico una lettera datata al 10 ottobre dal tono molto risentito. E scriveva così Tu non propugni il mio programma, tu non dai vita alla nascente banca mutua di Vicenza. Riscrive testualmente e prosegue Scrivimi subito a Venezia e dimmi se posso venire a Vicenza per dare opera attiva alla banca mutua popolare parlando con i soli promotori. Nei mesi successivi, quando finalmente la popolare di Vicenza iniziò la sua attività, Luzzati non cessa di dare consigli e suggerimenti. Incoraggia ad ampliare la cerca di soci, interviene in modo possibilista sul numero massimo di azioni da possedere da parte dei soci, sollecita un ruolo di banca locale, indipendente e che raccolge gli impieghi sul territorio in cui è chiamata all'operare. Insomma, per la storia della popolare di Vicenza, Luzzati non è solo l'ideologo del credito popolare a cui la banca si ispira, ma è davvero un padre sollecito ed attento. L'Assemblea dei Soci e della Banca, intanto, fin dalla prima assemblea del dicembre del 1866, delibera di nominarlo precedente onorario dell'Istituto. Luzzati accoglierà formalmente questa nomina solo 30 anni più tardi, nel 1897, e manterrà questo titolo per i successivi 30 anni, fino alla sua morte. Concludo questo mio intervento, che spero abbia consentito di comprendere come sia un onore per la banca che presiedo regarsi al progetto che vede finalmente fruibile il lassito Luzzati dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, citando ancora un elemento che emerge dal carteggio lampertico Luzzati. In molte sue lettere, Luzzati si firma proprio Presidente onorario della Banca Popolare di Vicenza. E nel nostro archivio è conservata una sua foto autografata con la dedica agli amici della Popolare di Vicenza. È una conferma che, compatibilmente con i suoi impegni di statista, Luigi Luzzati conserverà sempre, per la nostra e la sua Banca Popolare, un'amicizia ed affezione che ancora oggi noi tutti le ricambiamo. Grazie per la vostra attenzione. Grazie a Cavaliere Zonimbo per questa bella illustrazione di un periodo veramente effervescente, subito dopo l'Unità d'Italia si capisce che c'erano tutti questi fermenti già preesistiti. Vicenza è stato sempre un nucleo, diciamo, nel Veneto di patrioti italiani. Nell'Ottocento è stato un posto dove si riunivano anche persone che erano contrarie alla dominazione austriaca e in questo crogiolo di idee è venuta fuori anche questa cosa del mutuo soccorso e poi sfociata nella Banca Popolare. Le giornate d'Ulzatiane sono state sempre caratterizzate da una lex magistralis e questa volta abbiamo un grande onore di avere qui l'ambasciatore Sergio Romano che ha accettato, e io non ringrazio di questo, di dare un contributo a questa giornata con le sue parole. Le ringrazio molto di questa sensibilità perché la sua presenza è una cosa che per noi è molto importante, come l'ambasciatore Romano è stato qui durante le celebrazioni dell'Unità d'Italia a tenere una bellissima conferenza e quindi lo ringraziamo di essere ritornato, quindi sperando di essere ancora qui poi in un'altra occasione. Grazie ancora, lascio la parola. Grazie Presidente, sono io che la ringrazio per avermi dato questa occasione di tornare. L'unificazione italiana fu soprattutto e anzitutto un progetto politico e venne realizzata da uomini che erano in buona misura politici, avvocati, militari, pubblicisti, ma i problemi da risolvere dopo la proclamazione del Regno furono subito e immediatamente economici. Bisognava unificare il bilancio, bisognava estendere la tariffa doganale piemontese a tutta la penisola, bisognava creare una moneta comune, scegliere le banche che sarebbero divenute istituti di emissione, decidere quale parte del demanio degli stati preunitari sarebbe stata privatizzata. Costruire infrastrutture nazionali, vale a dire, destinate a servire l'intero territorio del Regno. Per molti aspetti l'Italia dovete fare dopo il 1861 su scala nazionale ciò che l'Europa ha fatto dopo il trattato di Maastricht nel 1992. Un mercato unico, una moneta comune, una politica commerciale comune. Esistevano nella classe dirigente del Paese le persone adatte a questo compito? L'uomo che aveva maggiori esperienze e maggiori idee in materia di gestione aziendale e di nuove infrastrutture, ferrovie, canali, porti, era al tempo stesso paradossalmente la migliore testa politica del momento e del Paese. Se non fosse morto nel giugno 1861, Cavour probabilmente sarebbe stato l'uomo più adatto a gestire l'unificazione economica del Paese. Bettino Ricasoli aveva polso, carattere e cultura, ma nella sua veste di proprietario terriero era un signore feudale. Marco Minghetti conosceva l'Europa, aveva un'acuta percezione dei problemi politico-amministrativi, il rapporto dei partiti con la pubblica amministrazione, ma in realtà era soprattutto un uomo politico. Certo, se avesse avuto maggiore tempo per esercitare il potere, forse avrebbe fatto dell'Italia un Paese meno centralizzato di quanto non fu, dopo la legge di Urbano Rattazzi. Ma, ripeto, era soprattutto un uomo politico. Gli economisti, gli industriali e i banchieri erano tutto sommato una piccola minoranza. Stefano Gliaccini si era segnalato all'attenzione di Cavour con uno studio sulle condizioni economiche del Lombardo Veneto, sotto l'amministrazione austriaca, ma era soprattutto un uomo di studi. Carlo Cattaneo tenne il broncio al nuovo Stato perché non era abbastanza federale, preferì diventare svizzero, ma, insomma, era anche lui un intellettuale. Fra le persone di indubbia competenza economica e finanziaria vi furono certamente Carlo Bastoggi e Quintino Sella. Il primo, Bastoggi, creò il grande libro del debito pubblico in cui vennero iscritti tutti i debiti vecchi e nuovi dello Stato unitario e mise sul mercato un titolo nuovo che venne immediatamente scambiato contro i vecchi. Il secondo, Sella, fu tre volte ministro delle finanze, amministrò il bilancio dello Stato come quello della sua azienda biellese, privatizzò molti beni confiscati alla Chiesa e aumentò considerevolmente la credibilità finanziaria dell'Italia sui mercati finanziari. Io credo che Sella sarebbe stato un eccellente Presidente del Consiglio, ma era difficile di carattere, scontroso, e vi darò fra poco un episodio abbastanza divertente della vita di Sella. Comunque, Sella fu anche un eccellente maestro, maestro di coloro che avrebbero l'occasione di lavorare con lui e fra questi vi fu certamente anche Luzzatti, il quale fu al tempo stesso allievo di Minghetti e di Sella. E fu una buona scuola, perché mentre Luigi Luzzatti era colto, era elegante, era un buon oratore, era molto veneziano, Sella era un uomo duro, brusco, spiccio, intransigente. Lo stesso Luzzatti, molti anni dopo arrivo all'aneddoto che vi avevo anticipato, raccontò una conversazione fra Sella e Vittorio Emanuele II nel 1870. Quando apprese che il re voleva l'intervento militare dell'Italia a fianco della Francia contro la Prussia nel 1870, questa era la volontà di Vittorio Emanuele II, Sella gli disse senza pedi sulla lingua che quella decisione avrebbe avuto per effetto un danno irreparabile. L'aneddoto, raccontato peraltro da Sella, forse l'avrà un po' esagerato, ma l'aneddoto vuole che Vittorio Emanuele si sia arrabbiato e abbia replicato «Crede lei che si debba condurre lo Stato come una fabbrica di panni?» Altri avrebbero taciuto, ma Sella rispose «Maestà, tanto nel condurre lo Stato come una fabbrica di panni, il mio principio è di guadagnare onestamente, sempre, e di non perdere mai. E qui non c'è che da perdere!» Sella aveva ragione e il re dopo le sconfitte francesi dovette segretamente ammettere che era stato ben consigliato. Nel raccontare quell'episodio, Luzzatti aggiunse che vi erano allora ministri decisi a lasciare il potere quando pareva che fosse in contrasto con la loro dignità personale nella sola tutela dell'onore di patria, strano riscontro con altri ministri che si videro dopo. Devo dire per verità e per onore alla storia che tutte le generazioni hanno detto questo della generazione precedente. Nato austriaco nel 1841, Luzzatti aveva sette anni nel 1848 quando Daniele Maninre suscitò per qualche mese la Repubblica di San Marco, ne aveva 18 nel 1859 quando scoppiò la Seconda Guerra di Indipendenza e ne aveva 25 nel 1866 quando la sua patria veneziana divenne italiana. Non è quindi anagraficamente un esponente della destra storica, ma ebbe per l'appunto la fortuna di collaborare con due dei suoi uomini migliori e di apparire sulla scena politica italiana nel momento stesso in cui i suoi studi economici all'Università di Padova e un'esperienza milanese molto utile negli anni seguenti lo rendeva particolarmente prezioso all'amministrazione economica del Paese in quel momento. E infatti nel 1869 era già segretario generale del Ministero dell'Agricoltura, dell'Industria e del Commercio e conservò l'incarico accanto a Quirino Sella quando il governo si trasferì da Firenze a Roma. Dovette aspettare i 30 anni per entrare alla Camera, allora non si poteva essere eletti al Parlamento prima, e la sua carriera da allora fu una via di mezzo fra quella del parlamentare e del Gran Comi scelto per progetti nazionali, missioni internazionali che segnano passaggi importanti nella storia di un Paese che era stato da poco unificato. Verso la fine degli anni 70 collaborò alla redazione della nuova tariffa doganale semiprotezionista al rinnovo dei trattati commerciali con Francia, Svizzera, Austria e Ungheria e con Marco Minghetti alla prima legge bancaria italiana. Nel 1881 fu capo della delegazione italiana alla Conferenza Monetaria di Parigi, quella sull'uso dell'argento negli scambi internazionali, e nel 1885 ebbe le stesse funzioni quando fu necessario rinnovare il trattato per l'Unione Monetaria Latina. Credeva alla libertà del commercio internazionale, ma nel 1887, quando Francia e Germania adottarono politiche protezioniste, dovette arrendersi alle circostanze e lo fece difendendo gli interessi dell'agricoltura italiana, dei lanieri veneti, delle banche, fra cui purtroppo anche quella romana di Bernardo Tanlungo, e delle acciaierie di Terni. Ma quando fu presidente della Giunta Centrale del Bilancio fra il 1886 e il 1991, mise in pratica la lezione appresa durante gli anni passati accanto a Quirino Sella e fece del suo meglio per evitare spese che il bilancio dello Stato italiano non era in grado di sostenere. Il momento della responsabilità politica arrivò nel 1891 quando Francesco Crispi dovette dimettersi e la destra del Marchese di Rudini, a cui Luzzatti era molto legato, tornò al potere. divenne ministro del Tesoro e aiutò Rudini a ridurre le spese militari e coloniali in sintonia con gli umori delle regioni settentrionali dell'Italia, dove si pensava soprattutto allo sviluppo dell'economia e dell'industria e dove la politica coloniale di Francesco Crispi era vista come il fumo negli occhi. Se avessero potuto, Rudini e Luzzatti avrebbero probabilmente cominciato già allora ad allentare i vincoli della triplice alleanza e messo fine alla politica anti-francese di Crispi. Ma il governo durò poco più di un anno e i loro progetti dovettero venire per il momento accantonati. Poi divennero nuovamente attuali quando Crispi, tornato al potere nel 1893, fu costretto a dimettersi dalle manifestazioni popolari di Milano dopo la battaglia di Adua. La sconfitta di Adua nel marzo del 1896 fu certamente una brutta pagina di storia nazionale anche perché lasciò nel paese uno strascico di risentimenti che avrebbero alimentato il peggiore nazionalismo italiano nei decenni seguenti. Però quella battaglia perduta creò le condizioni per un colpo di timone come venne chiamato soprattutto nel campo della politica estera e della politica commerciale. Un colpo di timone che giovò al paese e di cui Luzzatti fu certamente protagonista. Rudini tornò al potere in marzo e quattro mesi dopo in luglio rimpastò il governo chiamando Emilio Visconti Venosta agli esteri e Luzzatti al tesoro. E così vi fu da quel momento al vertice del paese un trio di uomini di Stato decisi a lavorare insieme per una nuova collocazione dell'Italia nella politica europea. Visconti Venosta era l'uomo che insieme a Quintino Sella aveva sventato le ambizioni interventiste di Vittorio Emanuele II nella guerra franco-prussiana. Non era pregiudizialmente ostile la triplice Visconti Venosta non era ostile ma constatava che il clima politico europeo stava peggiorando. Guglielmo II imperatore di Germania dal 1888 aveva licenziato Bismarck due anni dopo nel 1890 e aveva cominciato a fare una politica marziale. L'Austria di Francesco Giuseppe aveva ormai ambizioni balcaniche e corteggiava le popolazioni slave dell'impero a danno delle popolazioni italiane e fomentando un maggiore irredentismo. La Francia non aveva dimenticato la perdita dell'Alsazia e Lorena le rivalità europee si stavano trasferendo in Africa dove i confini degli impieri coloniali non erano stati ancora tracciati ma insomma l'intero clima europeo stava diventando molto più bellicoso con risentimenti che si trascinarono sino alla fine sino all'inizio della grande guerra. Imprigionata in una tripice sempre più belligerante l'Italia correva il rischio di essere coinvolta in una guerra che non rispondeva ai suoi interessi e che avrebbe pregiudicato la sua crescita economica e sociale proprio nel momento in cui questo stava per accadere stava concretamente per accadere. Il miglioramento dei rapporti con la Francia invece avrebbe allontanato il pericolo di un conflitto e avrebbe contribuito a rendere il clima europeo meno conflittuale. Luzzatti d'altro canto era il ministro che aveva maggiore pratica di rapporti commerciali e soprattutto aveva i migliori rapporti con gli ambienti economici e accademici francesi. Ciascuno nel suo campo i due ministri avrebbero lavorato insieme con il sostegno del Presidente del Consiglio per uno stesso scopo. I primi risultati furono raggiunti da Luzzatti inviato segretamente a Parigi il ministro del Tesoro era ministro del Tesoro in quel momento gettò le basi per un nuovo trattato di commercio che chiudeva definitivamente l'epoca crispina dei dispetti reciproci. La Francia garantiva all'Italia la sua tariffa minima ed Italia dal canto suo applicava alla Francia la clausola della nazione più favorita. In quello stesso anno Luzzatti fu chiamato all'Institut de France sulla poltrona che era stata di Gladstone e pronunciò un omaggio al suo predecessore che aveva tutte le qualità necessarie per piacere ai padroni di casa un tono fortemente liberale quindi nella percezione generale implicitamente critico della Germania Guglielmina un'orazione scritta in un impeccabile francese con tutte le volute retoriche gradite alla nobile istituzione di cui era diventato membro insomma non è sorprendente che negli ambienti diplomatici tedeschi e austriaci Luzzatti fosse ormai classificato come francofilo e segretamente ostile alla triplice alleanza vi era a Roma nel 1897 un ambasciatore di Francia molto attivo molto dinamico e molto pettegolo che si chiamava Camille Barrère e che non mancò di alimentare quella convenzione facendo circolare quella voce secondo un dispaccio dell'ambasciatore di Gran Bretagna nei circoli politici italiani girava la voce che Barrère si stesse servendo del trattato di commercio quindi di Luzzatti per staccare l'Italia dalla triplice i buoni rapporti stretti con gli ambienti francesi gli resero un considerevole servizio nel momento in cui si mise al lavoro per un'operazione che sarebbe piaciuta a Quintino Sello la conversione della rendita italiana allora quasi interamente negoziata sul mercato finanziario di Parigi per pagare i debiti contratti con la creazione dello Stato unitario l'Italia doveva iscrivere ogni anno nel grande libro del debito pubblico gli interessi passivi per una somma corrispondente grosso modo a 16 miliardi di lire dall'ora vale a dire a 30 miliardi di euro d'oggi tenetevi bene noi ne scriviamo 90 miliardi di euro ogni anno nel grande libro del debito pubblico ma 30 miliardi allora erano molto di quei 16 miliardi circa la metà era rappresentata da debiti contratti a un interesse elevato il 5% in un momento in cui le condizioni economiche del paese erano molto peggiori a giudicare dal credito crescente dell'Italia in Europa a giudicare dagli ultimi presti dalle conversioni minori che erano state fatte negli anni precedenti vi erano ormai le condizioni per convertire la reddita più onerosa dal 5 al 3,5% con un risparmio considerevole per il bilancio dello Stato un'Italia più prospera e più dinamica poteva legittimamente pretendere tassi meno elevati oggi diremmo spread ma vi era pur sempre come in tutte le grandi operazioni finanziarie un rischio che i mercati interpretassero l'offerta come un segno di gravi difficoltà economiche e che i proprietari dei titoli si affrettassero a vendere le loro cartelle con tutte le conseguenze che ne sarebbero derivate per la credibilità dell'Italia sui mercati internazionali le trattative passarono da un governo all'altro in un periodo in cui alla presidenza del Consiglio si succedettero Pellù Saracco Zanardelli Fortis ma il dossier rimase quasi sempre nelle mani nelle sue mani e di quelle anche del direttore della Banca d'Italia che era Bonaldo Stringer insomma l'operazione era quasi conclusa quando Luzzatti divenne nuovamente ministro del Tesoro nel febbraio 1906 con sonnino alla presidenza del Consiglio ma il governo durò poco più di tre mesi e Rothschild a cui spettava la creazione del consorzio bancario che avrebbe garantito allo Stato italiano una linea di credito fece capire che l'Italia era troppo instabile in quel momento per rassicurare i mercati e tentare un'operazione rischiosa il giudizio cambiò quando Giolitti tornò al potere nel maggio del 1906 occorreva una legge e occorreva evitare in attesa della sua approvazione il nervosismo dei risparmiatori e le manovre degli speculatori e lo scopo fu raggiunto con un'operazione parlamentare che durò tre ore e mezzo il progetto fu presentato alla Camera alle tre del pomeriggio discusso immediatamente sulla base di una relazione di Luzzatti alle cinque e mezza dopo l'approvazione della Camera passò al Senato che l'approvò mezz'ora dopo alle otto con la firma di Vittorio Emanuele divenne legge dello Stato e il giorno dopo le banche e le borse la lessero sulla gazzetta ufficiale in pochi giorni furono convertiti titoli per 8 miliardi di lire circa 15 miliardi di euro attuali e le cartelle di cui fu chiesto il rimborso ammontavano una somma tutto sommato insignificante 4 milioni e mezzo in questo passaggio cruciale della storia della finanza italiana Luzzatti si limitò a recitare la parte del relatore ma in merito era in gran parte suo i due successi fecero di lui un personaggio nazionale quando Giolitti nel dicembre del 1909 decise di fare un passo indietro per ripartire più tardi con maggiori energie il nuovo governo fu presieduto da Silvi Sonnino ma durò soltanto tre mesi e cadde in un momento in cui il predecessore Giolitti non voleva ancora rientrare in campo interpellato dal re Giolitti propose Luzzatti e il consenso in Parlamento fu quasi unanime nel suo libro sulla politica italiana da Porta Pia a Vittorio Veneto Ivanoi Bonomi scrisse che cito aveva tutte le qualità per essere accetto ad un'assemblea parlamentare altezza di intelletto vastità di dottrina oratoria facile e immaginosa arguzia pronta e felice la sua mitezza e la sua cortese Bonomia erano proverbiali tal che egli uomo di destra aveva amicizie fervidissime fra i socialisti attratti verso di lui dal fervore con cui esaminava e propugnava i problemi della cooperazione e del credito popolare nei quali problemi egli era veramente maestro così Ivanoi Bonomi le difficoltà se mai venivano dalla diffidenza che la sua nomina suscitava a Berlino e a Vienna dove aveva fama di essere troppo francofilo e fondamentalmente antitriplicista occorreva quindi che al Ministero degli Esteri vi fosse qualcuno capace di tranquillizzare gli alleati e la scelta per volontà del re di Giolitti cadde su Antonino di San Giuliano nel libro pubblicato dall'Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti le acrobazie di San Giuliano tra la Francia e la Triplice sono molto ben descritte da Luca Riccardi il governo durò un anno dal 31 marzo al 30 marzo 1911 e i maggiori problemi di cui Luzzatti dovete occuparsi sono stati studiati nel libro nel lungo saggio iniziale di Pierluigi Ballini che apre appunto il libro pubblicato da questo istituto il presidente del consiglio per usare un'espressione del linguaggio politico americano dimostrò di essere un conservatore compassionevole ammirava la Francia e aveva avuto una parte considerevole nel colpo di timone con cui di Rudini aveva ampliato gli orizzonti della politica estera italiana ma la sua politica economica e sociale doveva molto a Bismarck e al socialismo della cattedra e più generalmente della cultura tedesca del momento il suo impegno per la diffusione delle banche popolari e il suo contributo alla creazione della Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e la vecchiaia sono soltanto alcune delle ragioni che lo rendevano gradito ai socialisti e fu questa probabilmente la ragione per cui Sonnino nei suoi governi lo volle al Ministero del Tesoro forte e autorevole in materia di politica economica e sociale Luzzatti non aveva la destrezza politica di Giolitti nelle questioni che suscitavano le emozioni e le passioni politiche nazionali avrebbe dovuto allargare il suffragio con una nuova legge elettorale ma si trovò alle prese con una matassa particolarmente imbrogliata i socialisti volevano il suffragio universale mentre i conservatori e il gruppo dei giolittiani temevano che avrebbe giovato soprattutto alle sinistre Luzzatti tentò una via di mezzo e propose al Parlamento una legge che presentava due caratteristiche il suffragio sarebbe stato allargato a tutti coloro che sapevano scrivere almeno qualche parola e il voto sarebbe stato obbligatorio come già del resto accadeva in altri stati fra cui Belgio e Svizzera la proposta sarebbe dovuta piacere a tutti ma i socialisti si opposero al voto obbligatorio perché temevano come scrisse ancora Bonomi quella massa apatica e indifferente che appunto per questa sua indole fugge le novità e se è costretta a votare vota per i conservatori pur concepita con le migliori intenzioni insomma la legge avrebbe favorito i socialisti nelle regioni che erano maggiormente alfabetizzate ma li avrebbe sfavoriti dove le masse potevano essere più facilmente manipolate dai notabili era un'ulteriore conferma della dualità dell'Italia e nel principio valido anche ai nostri giorni secondo cui le leggi che vanno bene per il nord non vanno necessariamente bene per il sud giolitti tagliò corto lasciò intendere che l'unica soluzione possibile era il suffragio universale temperato da qualche limitazione ma senza voto obbligatorio e invitò la Camera a votare contro la proposta di legge di Luzzatti il governo cadde e giolitti come era nelle sue intenzioni tornò al potere la riforma della legge elettorale sarebbe stata fatta dal suo governo e gli italiani che andarono alle urne nel 1913 furono 5 milioni e 100 mila 615 soltanto il 60% degli eventi diritto ma abbastanza per raddoppiare il numero dei socialisti e la Camera dei Deputati fra le ragioni che spinsero Giolitti a decretare la fine del governo Luzzatti vi sarebbe stata anche la guerra di Libia in un libro molto leggibile ma forse un po' troppo colorito Giovanni Ansaldo descrive una casuale conversazione fra Giolitti e un giornalista in una serata romana del febbraio 1911 poche settimane prima della caduta del governo Luzzatti parlando del Presidente del Consiglio Giolitti avrebbe detto Duzzatti è un'anima timida intendeva dire che non era la persona adatta ad affrontare con le armi il problema della Presidente italiana sulla quarta sponda per molti italiani d'oggi suppongo che quella fase anima timida suonerebbe quasi come un complimento nell'anno passato alla Presidenza del Consiglio dovete anche affrontare il problema dei rapporti con la Chiesa tra lo Stato e la Chiesa il tema delle religioni gli era particolarmente chiaro come appare chiaramente dal saggio di Roberto Pertici nel libro pubblicato dall'Istituto si era allontanato dalle pratiche religiose dell'ebraismo ma aveva conservato sensibilità per i temi religiosi e li aveva affrontati in parecchi studi e saggi storici quando Romolo Murri in Parlamento agitò il problema della riforma della Chiesa e Filippo Meda quello della conciliazione fra lo Stato e la Santa Sede Luzzatia si sottrasse a una discussione che avrebbe agitato gli animi senza produrre risultati apprezzabili ma aveva le idee chiare e sintetizzò il suo pensiero con una formula ancora più liberale di quella di Cavour libere religioni nello Stato sovrano è un po' di più che non libera Chiesa in libero Stato sapeva che gli italiani erano quasi tutti cattolici non ignorava il ruolo della Chiesa nella storia del paese era affascinato dal movimento modernista ed ebbe rapporti di amicizia con i suoi esponenti italiani ma la libertà di culto e di coscienza non poteva essere octuaié e largita come le costituzioni ottocentesche Duzzatti non avrebbe mai sottoscritto il primo articolo dello statuto Albertino là dove si afferma che la religione cattolica è la religione dello Stato e che gli altri culti sono tollerati e non avrebbe mai approvato la condiscendente legge sugli altri culti del 24 giugno 1929 emanata dopo la firma dei patti lateranensi in cui si sottolinea la particolare situazione giuridica della Chiesa cattolica che è la religione dello Stato lo Stato italiano secondo Duzzatti doveva limitarsi a proteggere tutte le religioni e avrebbe svolto il suo compito nel migliore dei modi soltanto se non avesse avuto alcuna religione nel saggio di Annibale Zambarbieri dedicato all'interesse al suo interesse per la cultura dell'estremo oriente il lettore troverà una conversazione con un professore giapponese grande esperto di buddismo a Roma nel maggio del 1908 quando i due si scambiarono opinioni sui rapporti fra chiesa politica ed ed educazione l'italiano disse in Italia i religiosi sono ancora molto forti e il cattolicesimo è privo di una spiritualità tollerante parlando di Duzzatti signor presidente ho avuto spesso l'impressione che stessimo parlando di noi i tempi sono cambiati le circostanze internazionali sono alquanto diverse ma l'Italia è sempre alle prese con i grandi problemi che hanno occupato la vita dell'uomo politico veneziano bilancio dello Stato e conti pubblici credibilità politica ed economica del Paese il valore delle alleanze e l'interesse nazionale una legge elettorale che garantisca al tempo stesso rappresentanza e governabilità vista con il senno di poi e con gli occhiali delle nostre recenti esperienze l'Italia di Giolitti Zanardelli Rudini San Giuliano e Luzzati non era poi così male bene credo che l'applauso caloroso abbia segnalato quanto sia stato gradito questo intervento lucidissimo articolato ricco di citazioni e soprattutto che ha illustrato in maniera veramente magistrale la figura di Luzzati che oggi abbiamo ricordato e questo è proprio noi non sapevamo abbiamo invitato il magistrato il romano ma non sapevamo cosa avrebbe detto ecco e questa è stata una gradissima in realtà non lo sapevo nemmeno io è stata una gradissima sorpresa e lo ringraziamo veramente di questo ecco con questo si chiude questa interessante importante e bella serata da oggi abbiamo un libro in più abbiamo un museo grazie alla generosa contribuzione da parte della Banca Popolare di Vicenza abbiamo avuto un'illustrazione da parte del Presidente della Banca Popolare di Vicenza degli antefatti della nascita della Banca Popolare di Vicenza quindi credo che possiamo partire da questa sala arricchiti nella nostra cultura di conoscenza di giudizi e soprattutto diciamo di storia grazie a tutti e buonasera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti